prima di riprendere con la nostra programmazione regolare che prometto ricomincerà con assoluta assiduità superate queste feste natalizie estremamente impegnative anche se non soprattutto dal punto di vista alimentare ho pensato di introdurre un argomento che mi è stato in realtà richiesto spessissimo sulla community soprattutto dopo gli ultimi video di questi giorni l'argomento è come recuperare i nostri product key di windows e nel caso eventualmente anche di office e di altri programmi che magari sono andati smarriti questo è necessario soprattutto quando si vuole reinstallare windows oppure nel caso di procedure particolari come quella dell'aggiornamento alla 23 h2 v2 che abbiamo visto in uno dei video precedenti e allora non perdiamo tempo rimbocchiamoci le maniche e andiamo a vedere come recuperare questi benedettissimi product key ti senti pronto iniziamo la procedura per recuperare i nostri product key è inaspettatamente facile richiede semplicemente l'uso di un programmino peraltro portable e che quindi non richiede nessuna installazione sul nostro computer anzi il consiglio è una volta scaricato il programmino di tenerlo su un pendrive come faccio io ed utilizzarlo alla bisogna e quindi per procurarci questo programmino andiamo ad aprire come prima cosa il nostro browser una volta aperto come sempre nel motore di ricerca andremo a digitare gentiluomo digitale effettuiamo la nostra ricerca e il risultato che ci interesserà sarà il primo e cioè quello relativo come sempre al dominio gentiluomo digitale punto it diamolo e in alto portiamoci sulla sezione downloads questa qui una volta aperta la nostra pagina scendiamo un pochino più in basso fino ad individuare questo download quello che si chiama windows key finder potremo scaricare il nostro programma cliccando sul grosso pulsante azzurro file download ma prima di procedere vorrei avvisarti di una cosa ovvero che il mio provider a volte stenta qualche momentino a visualizzare il file sulla mia pagina in questo caso e quindi se non dovessi trovare questo file già disponibile niente paura ti basta andare qui in alto sulla lente di ricerca e digitare per l'appunto windows key finder premi il tasto invio e vedrai che si aprirà una pagina con il risultato della tua ricerca per scaricare il programma in quest'altro modo ti basterà cliccare sul nome del programma stesso e quindi sulla scritta windows key finder clicchiamoci e vediamo che parte il nostro download che dura veramente ma veramente un secondo perché il file è estremamente piccolo anziché a questo punto andare ad aprire la cartella dei download facciamo semplicemente doppio clic sul nome del file per aprire direttamente la cartella compressa una volta aperta andiamo a chiudere la finestra del browser retrostante e potremo andare a trascinare il nostro programmino portable dove vogliamo come dicevo il mio consiglio è quello di tenerlo su un pendrive ma in questo caso io la trascinerò per semplicità sul desktop ecco fatto chiudiamo la cartella compressa e andiamo a vedere come funziona il nostro software siccome però non voglio litigare con il mio carissimo amico youtube come è successo un mesetto fa facciamo subito un piccolo disclaimer tutto quello che sto per mostrarti è solo a scopo informativo ogni uso illecito di questo programma può essere perseguibile penalmente quindi mi raccomando utilizza queste informazioni responsabilmente e solo su macchine di tua proprietà andiamo avanti tutto quello che dobbiamo fare è lanciare il nostro programmino e nella finestra che si aprirà vedremo comparire i product key sia di windows che di office qualora naturalmente sia installato sul nostro computer per la precisione i product key ovvero i codici che ci interessano nel momento in cui dobbiamo reinstallare un software hanno questo formato qui che ti sto mostrando in basso questo programma inoltre ci consente di utilizzare questo tasto print per andare a stamparli e quindi avere una copia cartacea utile per il futuro oppure ancora di cliccare sul pulsante save che ci consentirà di salvare i codici sotto il comodissimo formato testo comodissimo perché possiamo fare anche una copia incolla nel momento in cui dobbiamo reinserirli evitando di sbagliare ti chiedo scusa per il disclaimer so benissimo che tutti i membri di questa community non hanno bisogno di questo genere di raccomandazioni ma purtroppo è successo qualche giorno fa ricorderai che un video mi sia stato cancellato a seguito della segnalazione di qualcuno che pensava che cercassimo di fare qualcosa di illecito cosa che all'interno di questo canale ti garantisco che non accadrà assolutamente mai e torniamo a noi anzi soprattutto torniamo proprio alla community perché quest'oggi abbiamo due ringraziamenti da fare il primo va ad aurelio guercio per il suo gentilissimo e generosissimo super grazie ma anche per il bellissimo messaggio che lo ha accompagnato ed il secondo al nostro amico elcon che è entrato ufficialmente abbonandosi al canale a far parte della community dei gentiluomini naturalmente non penserai che mi dimentichi dell'ultimo ringraziamento che come sempre invece è quello riservato proprio a te che hai guardato questo video mi hai fatto compagnia fino a questo punto e detto questo non mi resta che salutarti e come di consueto darti appuntamento alla prossima